Lo sport è di casa in Puglia. I comuni di Taranto e di Vieste sono candidati al titolo di città europea per lo sport per il 2025. Per il capoluogo ionico la competizione potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio verso i giochi del Mediterraneo, che ospiterà nel 2026. Il sindaco Rinaldo Melucci, ricordando l'esperienza del SailGP, ha sottolineato come gli eventi sportivi possano contribuire profondamente a cambiare la percezione di una città. Lavoreremo già da domani con tutti i presidenti delle federazioni, con tutti gli enti di promozione allo sport, con tutto il mondo sportivo. Per dirigere insieme, naturalmente non partiamo da zero, avremo talmente tesoro del lavoro fatto in occasione dei giochi del Mediterraneo, lo implementeremo proprio per poter aumentare l'indice di sportività, che poi è il motivo principale di questa candidatura. È una sfida importante, questa candidatura rientra anche in un fermento che da qualche anno sta attraversando tutto il mondo sportivo, un fermento dove il comune ha una importanza rilevante. Ed è stato ufficializzato nei giorni scorsi anche il percorso della città di Vieste in una gremita sala consigliare, alla presenza del sindaco Giuseppe Nobiletti, dell'assessore allo sport Dario Carlino, del vicepresidente della regione Puglia, nonché assessore allo sport per tutti Raffaele Piemontese e del presidente di Access Italia Vincenzo Lupatelli. La candidatura di Vieste a Comune Europeo dello Sport 2025 esprime tutta la strategia che da oltre dieci anni caratterizza le politiche sportive pugliesi, ha sottolineato Piemontese, salute, buona vita, accesso popolare alla pratica sportiva. L'obiettivo del riconoscimento è promuovere lo sport tra i cittadini dell'Unione Europea, in particolare verso i bambini, gli anziani e i disabili. La decisione dell'Access, l'Associazione Capitale Europee Sport, dopo il vaglio dei dossier, avverrà entro il 2023. Le altre città in gara in Italia sono Caorle, Senago e Varallo.